Bene ragazzi, qui Ditto, oggi andiamo a te con The Walking Dead, nella scorsa parte abbiamo trovato rifugio in una, tipo, stazione centrale elettrica Stazione, parole a caso, e niente, ci siamo messi qua, abbiamo acceso un fuoco, un fuoco, e ci siamo messi qua per la notte, basta, andiamo avanti Vai, ok Dunque, 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 allora Te? Sì, sicuramente ti offro il room, Jane, guarda, proprio sicuramente Devo guardare qua Cos'è quel sorriso ambiguissimo di Luke Ma perché devo offrire, cioè, no, mi costringono a offrire il room a Jane, non ci credo Non ci credo Sono costretto Non c'è nessun altro a cui io possa darlo Oh mio Dio Non lo trovo giusto, non lo trovo giusto sta cosa, ragazzi Vi obbligano a essere amici di una persona che magari alcuni giocatori può stare sul cazzo Vaffanculo Basta, ora, mi hanno costretto a farci amicizia In che modo parla quell'uomo Così Non ti parlo Ma ti odio Tanto ti odio, non ti parlo, non ti rispondo Sono una bambina, non posso Ma vaffanculo, guarda che stronzo, vaffanculo, spaccagliela in testa Brava Brava, vantati, vantati È una cosa sbagliatissima, ma vantati pure Brava, vantati, vantati Eh, aspetta, un nome stupido, un nome stupido Jane Ecco, forse si chiamava così Non mi interessano i tuoi racconti Non me ne frega, un cazzo Ah, guardate qua, ragazzi, guardate qua Sbam Sparite Ragazzi, scusate, ma non me ne fotte un cazzo della vita di Jane Non voglio saperne nulla, Jane Minchia Minchia Non ne voglio sapere nulla, Jane, basta Vabbè, tanto non Non c'è tre tripa per gatti, Jane Non c'è assolutamente tripa per gatti con te Cioè, con me Per me, con te Cioè, per te, con me Ecco Vedi, che antipatica e stronza No, Did, solamente dura per le esperienze passate È vero, è stata È stata Gli è stata rafforzata la scorza Mentre tentava di uccidere Sarah per due volte È vero, è vero Abbasso un po' la webcam perché non so se Mettendomi così Mi si vede Sta diventando una chat erotica questa Che non possiamo più scopare Esatto Che cosa È ancora molto ambigua il discorso Continua ad essere ambigo Verità, non è propriamente vero, Mike, però Ha ragione, Kenny Perché non posso dare ragione a Kenny Perché non posso Perché non mi danno l'opzione È un gioco che si basa sulle tue scelte Che ti imponiamo noi E allora Se mi Attira i zombie, eh Che c'è? Cos'è sono sti sguardi Sgomenti E allora finirà Niente Vodka Niente Niente Mortoff Poco, fidati perché la sua è una trappola Fidati Poco Tranquilli che Cammineremo poco perché ci sarà subito una bella trappolozza per noi Dato che tutti si fidano di lui Tutti si fidano di lui Quindi Non possiamo farci niente Comunque Finalmente c'è il giorno Si cammina e forse accade qualcosa Finalmente Forse Ok Si sta camminando, eh Questo sì Questo non lo posso negare Però Bisogna vedere se effettivamente cadrà qualcosa Perché finora questo episodio non ci ha regalato A parte l'inizio Troppa roba Non ci fa 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 Molto Molto Sto dicendo Tutti Ogni volta che chiedo Ok, ok Eh, lo so Lo so Continua a dire Vicino, è qui, venite di qua Cioè, dai Lì c'è del cibo, per davvero Non mi fido Sì, ho capito, ma il lago è ghiacciato Ah, il lago è ghiacciato Ok, ok, scusate No, se il lago è ghiacciato E regge Non si capisce se fallo in russo Eh, dobbiamo camminare lentamente Ok, ragazzi Ora finalmente accadrà qualcosa Uno Almeno uno sicuramente cade nel ghiaccio Sicuro, ok Cioè, si rompe il ghiaccio e cade Sicuro, almeno uno È impossibile Se no, che abbiano messo un lago di ghiacci Non accada nulla È impossibile Vediamo ragazzi Io ne sono praticamente certo Ok, allora Kenny non può Arvo Vabbè, Clemente Vabbè Arvo non credo Potrebbe essere Mike O Mike O la tipa L'altra Non Jane L'altra tipa Secondo me Uno di loro due Fa una brutta fine Qua nel lago Secondo me Perché sono i due Meno importanti Alla fine Arvo Non credo Perché è appena arrivato Poi lui sparirà Perché È un personaggio secondario Sparirà in un qualche modo Stupido Mentre loro Che sono Personaggi secondari Ma un po' più importanti Credo che spariscono adesso Luke Sicuramente no Ce lo portiamo avanti Ancora un po' Jane Purtroppo anche Eh, secondo me O è Mike O è la tipa Sì, spero che loro Vadano piano Però anche gli zombie Guarda che scappa Questo Cazzo Ecco lì Incomincia a rompersi Ragazzi Le crepe Ora partono Sicuramente No Guarda come corre Guarda Lo sapevo No, Kenny Non correre Kenny Non correre Non correte Oh mio Dio Guarda che pezzo di merda L'abbiamo preso Ok Non Perché Vedete La gente si fidava Cosa vuole Mike? Cosa vuole Mike? Cosa vuole Mike? Cioè Davvero Kenny è intorto Davvero Io ragazzi Davvero Questa Oh mio Dio Luke Davvero Luke Questo è un colpo di scena Questo è un colpo di scena Ragazzi Jane Vai a salvare il tuo fidanzatino Jane Stai molto attaccata E cerca di fare peso Così te ne vai Oh mio Dio Aspetta Aspetta Ma morite anche voi Mi sa Oh mio Dio Io Io Perché io Ah per questo Ok pensavo Dai facciamo Ok Va bene Ok potrebbe Ok potrebbe avere senso Sparare ai vaganti Vai Allora Uno Due Oh Oh Ok Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E' andata E' andata E' andata No Stai ferma te E' colpa sua se ora muore Oh ragazzi E' colpa sua se ora muore Double kill Incredibile Clemmy tipo Ne sbatte le palle Tipo Oh C'ho una piuma sul braccio What Ma davvero Clemmy è così impossibile Spaccalo con questo pezzo Vai 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 Cosa No Oh mio dio Non ci credo Allora Questa è la conferma Definitiva Jane Scopa con Luke Fidanzato O anche no Il suo fidanzato Vabbè Quello che si è scopata È sotto il ghiaccio O comunque Un membro del gruppo È sotto il ghiaccio Lo stiamo aiutando E lei è lì Impassibile Che dice È troppo tardi Ecco a voi Jane Ecco a voi Jane Adesso siete d'accordo con me? E lei è lì E lei è lì E lei è lì